Pilar, sono qui. Devo parlare. Sembri preoccupata, Abby. Qualcosa non va? No, non proprio. Quando hai lasciato me e Pilar, lei mi ha dato i diari segreti della nonna. Li sto leggendo. Contengono parecchie cose interessanti. Non puoi aspettarti di apprendere subito tutta la conoscenza di Mariana. Ci vuole tempo. Già. Una volta ha fatto un sogno. Una visione del futuro. In essa compare una donna identica a te. Naturalmente non voglio dargli troppa importanza, per ora. Quando la tua guerra con Amaru sarà terminata e il fatto dello scrigno d'argento di Ischel deciso, torna qui da me. Ma certo. Grazie. 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 Grazie.